Mercato Itinerante è una startup innovativa che nasce nel 2020 a Torino. Inizialmente il progetto nasceva come esigenza personale mia di Eman, altro socio fondatore di Mercato Itinerante, per l'esigenza di ricevere prodotti freschi del mercato direttamente a casa. La necessità nasceva dal fatto che i nostri orari di lavoro coincidevano perfettamente con quelli di apertura del mercato e avevamo proprio difficoltà nel raggiungere il mercato e poter approvvigionarci di questi prodotti. Iniziando a lavorare a questo servizio ci siamo resi conto che non solo era un'esigenza nostra personale ma diffusa tra tanti cittadini e allo stesso tempo ci trovavamo ad affrontare una sfida sociale molto più ampia, quella di salvaguardare i mercati come patrimonio culturale delle nostre città. Ad oggi i mercati stanno subendo un periodo di notevoli difficoltà sia per le difficoltà nel rinnovarsi sia perché sono abituati a degli schemi di vendita che vengono tramandati da generazione a generazione. Cosa fa Mercato Itinerante per sopperire a questa necessità? Si propone di formare i banchi del mercato e i mercatari offrendogli un canale di vendita alternativo, quindi quello digitale, e poter gestire un servizio di consegna direttamente a casa del cliente o per la ristorazione o per le aziende. Mercato Itinerante vuole rivoluzionare il mondo dell'e-commerce con un approccio sostenibile e responsabile che trasforma un semplice atto di spesa online in azioni che sostengono e stimolano l'economia locale. Proprio per questo il servizio tocca nove punti dell'Agenda 2030, tra i quali le più importanti l'impatto sociale, ambientale ed alimentare. Da un punto di vista sociale ci occupiamo di formare le attività commerciali, in particolare i banchi del mercato, offrendo corsi di formazione e una piattaforma che gli permette di gestire in completa autonomia il proprio banco di prodotti online, la propria vetrina, e raggiungere clienteli di diversa forma, quali B2C, B2B o dipendenti direttamente in azienda. Da un punto di vista alimentare cerchiamo di dare priorità ai prodotti chilometro zero e ai prodotti stagionali, quindi sono presenti oltre 300 prodotti a chilometro zero appunto e prodotti a filiera controllata, quindi con le certificazioni bio. Da un punto di vista ambientale invece le nostre consegne sono tutte effettuate tramite Cargo Bike, quindi zero impatto. Queste consegne ci hanno permesso di risparmiare oltre 6 tonnellate di CO2 e abbiamo sviluppato un sistema di waterrendere che ci ha permesso di risparmiare oltre 35.000 sacchetti di plastica che sarebbero stati immessi sul territorio, come lo facciamo con un servizio di vuoti che vengono lasciati a casa del cliente e poi all'ordine successivo vengono recuperati, igienizzati e riutilizzati per gli ordini successivi. Anche dal punto di vista alimentare abbiamo sviluppato un servizio che prende il nome di svuotabanco, che permette alle attività commerciali, quindi a tutto il mondo RECA, di ordinare, di acquistare tutti i prodotti che hanno una deteriorazione molto vicina e potergli dare una vita aggiuntiva. Allo stesso tempo, da un punto di vista lavorativo, collaboriamo con le imprese sociali di vario tipo, tra le più importanti esserci, con la quale sviluppiamo programmi di inserimento delle persone svantaggiate nel mondo lavorativo, soprattutto nelle fasi di picking, quindi la raccolta di prodotti all'interno del mercato e logistica con consegne a domicilio. Per quanto riguarda le aziende, invece abbiamo sviluppato programmi di welfare aziendali e benefit per i dipendenti, che permettono di ricevere dei report periodici su quello che è l'impatto che genera l'azienda o il ristorante o l'hotel di riferimento, su tutto quello che è l'impatto sostenibile che genera. Il mercato itinerante quindi nasce da esperienze pregresse dei soci, quindi mie e di Eman, ma allo stesso tempo abbiamo sfruttato quelle che sono le opportunità del territorio e quindi abbiamo iniziato una collaborazione con MIP Piemonte, successivamente con Reso Interprende, che tuttora ci accompagna grazie alla possibilità di usufruire di consulenze da parte di professionisti etici e imprenditori etici. Nello stesso periodo abbiamo fatto un percorso di formazione sul crowdfunding con Camera di Commercio nel progetto On Crowd, poiché eravamo interessati proprio a sponsorizzare, ad intraprendere una campagna di crowdfunding per raccogliere interesse da parte dei cittadini, attività che poi non abbiamo effettivamente strutturato poiché abbiamo intrapreso un percorso di accelerazione con Social Fair, attuale socio di mercato itinerante e ad oggi stiamo svolgendo un'accelerazione con Impact Hub Torino per poter crescere all'interno della città di Torino e scalare anche su altre realtà. Quindi mercato itinerante, quando non puoi andare al mercato, il mercato viene da te.